Allora, prossimi concorrenti, Sara? Abbiamo messo ai Davide, che portano Nana e Cauru, di Manga Nana e Cauru. Per voi pubblico, un bel applauso, grazie, un bel applauso pubblico. Il mio nome è Cauru Sugimura, ho 21 anni e mi diletto di Salon Maso, un bel cifantistico. Lei è Nana Shikusa, la mia vicina di casa. Sin dall'elementare, i nostri desti sono un lanciato. Forza Nana, dai Cauru! Forza Nana, dai Cauru! Forza Nana, dai Cauru! La Maria di Nana sta faticando a salire. Per avere voci più alti, deve rilastarsi un po'. Serve qualcosa di divertente, che svuoti la mente. Serve un diversivo. Forza Nana, dai Cauru! Forza Nana è un bel communitiesQ. Forza Nana, dai Cauru! Forza Nana, dai Cauru! Iniziano così i loro diversivi. Sempre più audaci. sempre più con le anime dei seri adulti